Zanetti, il tuo gol col Davos è stato bello, ma l'assist fatto oggi è stato qualcosa di eccezionale, la tua progressione. Sì, sì, sicuramente è stata un'emozione, il gol era un'emozione unica, però anche l'assist subito ai primi cambi, grazie anche a Stoffel, che abbiamo tutti e due una buona velocità, siamo riusciti a mettere insieme questo gol fantastico, sono contento. Ultima domanda, Kostner, Murini, Zanetti, la scuola italiana veramente, adesso è arrivato il nuovo attore della nazionale italiana di hockey, probabilmente se giochi così un posto in nazionale te lo guadagni anche tu. Sì, sì, ho visto il nuovo allenatore, sicuramente so che è un gran passo anche andare a giocare in nazionale, però sto cercando di fare il mio meglio, farmi notare anche qua dal club, anche dalla nazionale, vediamo se mi chiamano, spero. Una vetrina come quella del Lugano sicuramente è una vetrina che non passa inosservata. Sì, sì, sicuramente sono sicuro che lo vedono, vediamo se sono intenzionati a chiamarmi, io sicuramente cercherò di fare il mio meglio qua e anche in nazionale se mi chiamano. Complimenti e in bocca al lupo per proseguire il campionato. Grazie mille, speriamo.